Ciao ragazzi! Ciao! Ciao Buddy! Come stai? Occhio! Ah dai, ti mancano un po' di riflessi, tetta moscia! Ciao ragazzi! Ciao! Volete continuare a stare lì a bocca aperta oppure mi offrete una sedia? Te l'ho riscaldata, è la sedia più comoda della casa! Dopo questa? Professore, questa è la stessa casa dove c'era quella ragazzina posseduta dal demonio o qualcosa del genere? Sì, è quello che dicono, ma non è mai stato dimostrato. Ecco qua, allora qualcuno gradisce degli antipasti? Sì, grazie! Speravo di sentirvelo dire. Ehi, questo pane è fantastico! Oh sì, è così soffice e caldo. Ray! Oh, scusa, colpa mia! E' squisito! Ti ringrazio, piccola mia, l'ho fatto con le mie mani! Ok, eccoci qua! Credo, credo che il purè sia quasi pronto. Vediamo ancora un'altra leggera mescolatina. Buono! Buono! Ecco ragazzi, servitevi! Molto bene, adesso passiamo al tacchino. Che magnifico uccello! No, no! No, 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 no! Ehi, amico, amico, perché non ti rilassi un secondo? All'uccello ci penso io. Eh, così l'artiglietto si riposa, eh! E' un piacere! Comunque, grazie, è gentile da parte tua a offrirti. Lascia che ti dia un pizzicotto, coraggio! Fermo, fermo! Sapete, molta gente è come intimidita quando prepara il tacchino. Invece, in realtà, è molto semplice. Basta soltanto conoscere l'anatomia del tacchino e trovare... Dove? Ah, eccolo qua. Il suo ano minuscolo, ma grande abbastanza da piccarci la mano bella dentro. E riempirlo finché non scoppia. Oh, io lo cuaccio con tutta l'interiore, con i pisellini e le patatine. C'è molta gente che lo unge col burro fuso. Io invece faccio così. Lo lecco ben bene fin dentro l'ano. L'ano piccolo, piccolo. E' così tenero e buono. E non so cosa diavolo sia questo. L'allecco lo stesso. Ecco, tu l'hai giù. E poi mi piace poggiarmelo un po' qui. Poi prendo una di queste, la stacco ben benissimo e pam! Aggiungo, diciamo, quel non so che. Ecco qua. Credo che adesso sia pronto. E ora possiamo portarlo in tavola. Buono. Perfetto. Chi desidera mangiare l'ala? La sua o quella del tacchino? Oddio! Perfetto tagliarsi! Troppo divertente! Io so cosa preferisce lei. Una coscetta? Magari due! Che ne dici se le prendo tutte e due e gliele ficco dritte nel culo, comprese le ginocchia? Dwight, Dwight, rilassati. Eson, perdoni la domanda. Esiste qualcosa nel menù che lei non abbia personalmente ecco preparato? Beh, sì, il dessert che sto per servire. Arriva la torta, fate spazio. Oh, ok. Chi vuole la prima fetta di questa meraviglia? Io, io. Tutte la stai mangiando con gli occhi. Che buona. La passi a lei, le dispiace. Grazie. C'è magnifica. Germi miei. Germi miei. Germi miei. Oh, no! So, basta.